Ehi, Luz! Aspetta! Cosa c'è? Che cosa vuoi? Nulla, volevo solo fare due passi insieme. Oh, certo. A cosa stavi lavorando oggi in classe? Niente, è una specie di graphic novel. E che tipo di storia è? Diciamo che è una storia d'amore. Ce l'ha un lieto fine? Non lo so. Non sai come finisce? No, non ancora. Sono bloccato a dire la verità. Beh, parlamene. Raccontami la tua storia. No, non penso che sia una buona idea. No. Magari potrei aiutarti con il finale. Ok. Parla di un ragazzo e di una ragazza. Si amano più di qualsiasi altra cosa. Ma non possono mai stare insieme. Perché? Perché c'è una maledizione. Ogni 17 anni si incontrano. E si innamorano. E poi, proprio quando sono più felici, la ragazza muore. Allora questa è una tragedia. Allora questa è una ragazza. L'agrazione. Grazie.